Come mai ora gira tanto per la città invece durante i suoi quattro anni e mezzo era quasi sempre arroccato in palazzo di città? Come mai ha chiuso il profilo Facebook non appena eletto sindaco? Posso rispondere direttore? Allora, io ho sempre girato per la città. I cittadini non la vedevano? Ho una personalità differente, privilegio il lavoro e credo che se non avessimo fatto tutto il lavoro duro, serio, avanti e dietro, Bari, Roma in questi anni... Tante zone non le conosce. Queste cose, no, questo lo dice lei. Eh no, no, una buca enorme, no, no, lei è crispianese, lei è crispianese, residente a Crispiano, residente a Crispiano, taranto ai tarantini, lei è crispianese, lei è crispianese. Forse non sa, direttore, che c'è una marcia funebre durante la processione della dolorata che è intitolata mio nome. E perché stai a Crispiano? Io a Crispiano perché all'epoca... Perché non sei tarantino, non sei tarantino. Il commissario ha risolto un problema che tu in sei mesi non sei riuscito... Eh, te lasce tu a casa, te ne devi andare, ciao. Prepara la valigia, da Crispiano, eh, da Crispiano, taranto ai tarantini, non il candidato sindaco crispianese.